Com'è Sanremo? Sanremo è un bel delirio, lo definisco, perché mi ha preso come un gioco insieme di cose, tutte nello stesso momento. Infatti sto imparando ad avere il dono dell'Ubiquidacqui. La tua voce è strepitosa. A che età hai capito che volevi cantare? Allora, vediamo che... a 13 anni ho avuto proprio l'ispirazione, ho detto ah, voglio fare questo, mi piace tantissimo. Avevo proprio la necessità di farlo, mi faceva stare bene, mi faceva divertire, mi faceva esprimere perché ero una timidona. Però tu hai spiato anche musica? Ho studiato, ho studiato piano un paio d'anni, ho studiato canto e tutt'ora continuo. E beh, sì, sicuramente è importante coltivare una passione o comunque una predisposizione. Chi vince? Chissà, non lo so, è difficile dirlo. La tua top three, diciamo? La mia top three di questo Sanremo, allora sicuramente... A parte te, naturalmente. Ma è chiaro che mi escludo. I primi per me sarebbero i La Cruz, proprio nel mio sentire. Poi secondo Vecchioni, eh, terzo, terzo, terzo. Non saprei in questo momento... ah, Tricarico. Sì. C'è qualcosa che vuoi dire agli miei lettori? Eh, grazie di esistere, perché se non ci fosse la gente che legge, che cosa faremmo? Grazie.